Esistono server gratis per i siti web? Sì, vediamo di capire bene cosa vuol dire programmare un sito web. Internet è una rete di computer, offre servizi. Il web è un servizio di consultazione di documenti. Quasi tutti i servizi internet funzionano seguendo il modello client-server, in cui un computer client fa delle richieste ad un computer server. Anche il web funziona in questo modo. I client web vengono chiamati browser web. Un server è un computer come tutti gli altri. È sempre accesso, sempre collegato ad internet, è molto potente. Esistono diversi servizi che offrono un server web gratuito, ma nella maggior parte dei casi aggiungono una barra pubblicitaria sul tuo sito. Non ti farò l'elenco dei migliori web hosting gratuiti. Non ne ho mai usato uno. Consiglio personale, se vuoi imparare a sviluppare un sito web, non utilizzare un web hosting gratuito. Usane uno a pagamento, perché costerà una cifra ridicola ed avrai un maggior controllo su quello che fai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.